sofia loren la celebrazione per il 90 gavo compleanno dell'icona del cinema italiano sofia loren festeggia il suo 90 gavo compleanno la leggenda del cinema italiano sofia loren ha recentemente festeggia festeggiato il suo 90 gavo compleanno in occasione di questo evento speciale sono venute numerose personalità di spicco dell'industria cinematografica per celebrare la vita e la carriera dell'attrice il luogo della celebrazione era roma la città che rappresenta la patria di una grande parte della sua impressionante filmografia loren è considerata da decenni un'icona del cinema italiano e con i suoi ruoli in numerosi film ha conquistato i cuori degli spettatori sofia loren che ha interpretato ruoli indimenticabili nella storia del cinema è vista da molti come l'emblema del fascino e della bellezza italiani ecco il testo tradotto in italiano alla celebrazione è stato sottolineato quanto la sua passione per la recitazione abbia influenzato il mondo del cinema la sua carriera straordinaria si estende per più di sette decenni durante i quali ha ottenuto riconoscimenti sia nazionali che internazionali conquistando numerosi premi incluso un oscar durante l'evento è stata messa in evidenza anche la sua particolare relazione con roma es wurde angemerkt dass viele ihrer bekanntesten arbeiten in dieser historischen stadt entstanden sind und dass sie stets eine tief verwurzelte verbundenheit mit ihrer heimatpflege die veranstaltung selbst war ein berauschendes fest voller musik erinnerungen und bewegende ansprache in der loren zu den gästen sprach und ihnen für ihre unterstützung dankte unter den gästen waren einige der größten stars des kinos die sich auf die unglaublichen beiträge von loren zur filmkunst bezogen si è fatto notare che molte delle sue opere più famose sono nati in questa storica città e che ha sempre avuto un legame profondo con la sua terra l'evento stesso è stata una festa straordinaria piena di musica ricordi e toccanti discorsi durante i quali loren ha parlato agli ospiti ringraziandoli per il loro supporto tra gli ospiti c'erano alcune delle più grandi stelle del cinema che si sono riferite ai fantastici contributi di loren all'arte cinematografica le icone del cinema di diverse generazioni hanno riconosciuto le sue capacità e hanno sottolineato quanto abbia rivoluzionato la rappresentazione delle donne nel film è stato evidenziato che il suo ruolo non era solo quello della ragazza in difficoltà ma spesso interpretava anche donne forti e complesse che combattevano per i loro diritti e sogni le valutazioni del suo lavoro sono state unanimemente positive e il rispetto che lore riceve è stato citato come una prova dei suoi straordinari sforzi artistici la sua lunga carriera come attrice ha non solo plasmato il suo percorso di vita ma ha anche influenzato in modo duraturo l'espressione artistica nel cinema nonostante l'età sophia loren è ancora una figura attiva nell'industria del cinema e prevede di continuare a lavorare a progetti che le stanno a cuore il 90 a compleanno di sophia loren non è solo una celebrazione della sua vita ma anche un omaggio al suo duraturo l'ascito nel cinema l'evento rappresenta un capitolo significativo nella vita di una delle più grandi attrici di tutti i tempi e mette in luce ciò che ha contribuito alla scena cinematografica autore anita fache giovedì 19 settembre 20 24